Qual è la situazione nel centro Italia sconvolto dal terremoto e quali gli interventi in atto per sostenere la popolazione? Lo spiega a Euronews il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio. È una situazione in cui le persone sono prevalentemente fuori dalle abitazioni, molte si stanno trasferendo verso la costa o verso altre strutture dove ci sono gli alberghi, alcuni invece sono per quello che è agibile sulle città, quindi all'aperto e si sono radunate, questa è la situazione. Poi c'è tutta l'attività che si sta facendo in termini di valutazione sulla viabilità, strutture sanitarie, valutazione sull'acqua potabile, insomma tutte le attività e le azioni che portano ad avere uno scenario soprattutto sulle infrastrutture e poi tutto ciò che attiene all'assistenza alla popolazione in termini più generali. Ha qualche cifra, mi riferisco al numero degli sfollati o delle abitazioni o gli edifici distrutti? C'è un paio di migliaia di persone, forse qualcosa di più che è già riversato sulla costa, altre si stanno spostando su altre zone, però insomma il bacino è molto ampio. Le cifre le avremo poi quando le persone verranno assistite e quindi verranno registrate.